La ricchezza del colore, il bagliore dei cristalli, una tecnologia inedita dell'Oreal. Nuovo Color Rich Crystal Shine, labbra scintillanti, una morbidezza mai vista. Nuova collezione Color Rich Crystal Shine dell'Oreal, perché voi valete. Non me gusta un crudo, non me gusta un cotto, me gusta solo. Non me gusta un crudo, non me gusta un cotto, me gusta solo. Gran Biscotto. E sono rovagnati. Romani si vince. Pronti per il secondo posto? No. La camicia della gara. Per togliere questa macchia. Ciao nero, tranquilli. È nata Nuova Ace Gentile Noir. La prima candeggina gentile specifica per capi scuri. È imbattibile sulle macchie, mentre l'esclusiva tecnologia Blocca Colore aiuta a fissare il colore. Gran risultato. Nuova Ace Gentile Noir, imbattibile sulle macchie, la più sicura sui capi scuri. Ma sempre sono. Buonasera. Acqualete, ricca di piacere. Povera di sodio. Grana Padano ti sorprende con ogni sapore. Niente blocca il bagnato come Haggis. Eh già, niente è meglio di Haggis. Di movimento in ufficio se ne fa poco. Un po' di basket. Un po' di lancio del disco. Un certo numero di flessioni. Così, quando ci viene un po' di fame, ci vuole uno spuntino leggero. Kinder Fett al Latte. Uno Sandwich al Latte. Latte, miele e pan di spagna. L'ideale per nutrire senza appesantire. Anche perché dopo. Devo correre dal mio vero capo. Kinder Fett al Latte. Il Sandwich al Latte per me e per lui. Giorno dopo giorno, nella tua lavastoviglie, si accumulano sporco e germi. Finish cura lavastoviglie, usato una volta al mese, tutti i mesi. Pulisce e igienizza per darti i migliori risultati di lavaggio. Finish cura lavastoviglie. Pulito e igiene insuperabili. Qualità senza risparmio. Un risparmio senza qualità. Scegli il nuovo sole lavatrice. Un pulito è una freschezza naturale. Che dura ancora più a lungo. È una freschezza incredibile. Che non finisce proprio mai. C'è la più. Che ha, va, che va. Daikin, la soluzione è a... Aiuto, che è caldo. Non ce la faccio più. La prossima volta metto Logico Daikin. Risparmio sui consumi ed è più confortevole. Uff, ma sto toccando il fondo. Logico Daikin. Regola il clima. Riduce i consumi. Tu sei dimagrita, io no. Con Peso Blocker sono dimagrita in soli 30 giorni. Peso Blocker, il dimagrante a triplice azione da Sant'Angelica. In farmacia. Chi è quella specie di checca lì? Non l'ho mai visto. Sei rimasto lo stesso piccolo provinciale. Non te lo perdono mai quello che hai fatto. Sì? Tutto preciso. Sempre in regola. Bevi come una spugna, fumi come un turco. Stai mangiando come un maiale. Non fai che lamentarti. Come quando eri piccolo. 40 anni fa, però tu non eri così diverso. Sono sempre stato così. E allora perché non me l'hai mai detto? Era più facile fare una bella dichiarazione pubblica, vero? Ognuno ha il diritto di essere ciò che sente. È una storia un po' fuori dal comune. Lunedì 27 maggio, prima serata speciale di Porta a Porta dedicata ai risultati elettorali. Ospiti di Bruno Vespa, i leader e i rappresentanti di tutti i principali partiti commenteranno in diretta l'andamento del voto in collegamento con alcuni grandi giornali e con le città più importanti dove si vota. Porta a Porta speciale, lunedì ore 20.50, Rai 1. La città è anche testa, testa e mano. Caroline, ma come fai ad essere così in forma? Semplice, bevi, vita sana, movimento e fibres. Ah beh, anch'io bevo fibres di Parmalat. Anzi, perché non facciamo una pausa proprio con fibres? Oh yes, baby! Latte fibres Parmalat per me è sempre il migliore per essere ok. E hai ragione, Caroline. Ecco qui. Infatti, latte fibres Parmalat è un latte arricchito con fibre naturali, completamente solubili, che aiutano a equilibrare la flora intestinale e contribuiscono a un miglior funzionamento dell'organismo, importante per sentirsi sempre bene e sempre in forma. Mmm, conferma. È ideale per persone moderne e dinamiche attenti al proprio benessere, come noi. Fibres, infatti, fa parte dei latti UHT appositamente studiati da Parmalat, che grazie all'aggiunta di preziosi elementi nutritivi contribuiscono ad accrescere e migliorare il nostro benessere quotidiano. Sapete, anch'io scelto il latte Parmalat. Bevo sempre Calcium Plus. E fai bene, Alessandra, perché fra tutti i latti Parmalat, Calcium Plus è un latte UHT dal sapore pieno e gustoso, ma soprattutto è più ricco di calcio. Calcium Plus, calcio, ricore, go! No, 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 non è quello il calcio del quale parlo io. Il calcio del quale parlo io è quell'elemento importantissimo che aiuta a fortificare il nostro corpo. E Parmalat Calcium Plus è ricco di calcio e proteine naturali del latte, due preziosi elementi utili per il nostro benessere. Mmm, buonissimo. Parmalat è davvero la scuola del latte. Che dite, ricominciamo le nostre lezioni? Ben volentieri, ma prima facciamo un buon brindisi. Sapete che cosa facciamo? Alessandra brinda con Calcium Plus e noi con Fibres. Cin cin! Pantentro vi presenta il nuovo balsamo Ricci Perfetti. La sua formula idratante agisce persino sui ricci più crispi. E li vedi più sani, fino al 70% meno crispi. Innamorarsi dei capelli sani. Linea Ricci Perfetti Pantentro V. Qualità senza risparmio. Un risparmio senza qualità. Scegli il nuovo sole lavatrice. Un pulito è una freschezza naturale. Che dura ancora più a lungo. È una freschezza incredibile. Che non finisce proprio mai! Non lo lasciano più. Pesaro, ci siamo dimenticati. Osa? Il contratto dell'Enel. Ehi ragazzi, basta telefonare all'Enel. Pronto, eh, Neel? Oggi c'è 800-900-800. Un unico numero verde per i servizi Enel. Che puoi chiamare sempre, tutti i giorni, anche di notte. Lasciatevi alle spalle la cellulite. Cellulase Gold in capsule. Da Sant'Angelica, in farmacia. Benvenuti nella gabbia. Otto squadre. Frost Gold wins. La ricchezza del colore. Il bagliore dei cristalli. Una tecnologia inedita dell'Oreal. Nuovo Color Rich Crystal Shine. Labbra scintillanti. Una morbidezza mai vista. Nuova collezione Color Rich Crystal Shine dell'Oreal. Perché voi valete. Come on, baby, and rescue me. Pietorelle, and you are free. Cause I need you by my side. Pietorelle sugar free. Free as you are. Bianco puro spuma di champagne. Il detersivo che da solo lava e disinfetta. Mamma, 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 no mamma, mamma. Oggi c'è Regina Carta Camomilla. La nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla. Quattro volte soffice. La car del club fai-da-te agi. Conservatela con cura. Perché al fai-da-te potete accumulare altro risparmio con alta fedeltà 2002. Si vota per il rinnovo di 10 amministrazioni provinciali e 967 amministrazioni comunali. I seggi elettorali saranno aperti domenica 26 maggio dalle ore 8 alle ore 22 e anche lunedì 27 dalle ore 7 alle ore 15. Per votare è necessario un documento di identità e la tessera elettorale è già distribuita in occasione di precedenti elezioni. Cercate la tessera oggi stesso. Chi l'avesse smarrita o non l'avesse mai ricevuta può richiederla all'ufficio elettorale del comune in cui è iscritto. Elezioni amministrative 2002. Si vota domenica 26 maggio dalle 8 alle 22 e anche lunedì 27 maggio dalle 7 alle 15. E buon voto a tutti! Nel segno della musica, in nome della solidarietà. Pavarotti and Friends, l'evento. Dal parco Novi Sad, uno spettacolo unico. Da nove anni si alza una voce. Il canto vola e vuole arrivare in tutto il mondo per migliorarlo. Luciano in concerto con tutti i suoi amici. Luciano, la musica può. Insieme all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Pavarotti and Friends, Forangola. Tutta la musica è in concerto. Su Rai 1. Vi aspetto martedì. Non è così affascinante. Credi che offrirebbe così tanto se i rischi non fossero così grandi? Arturo, è così che si fanno i soldi veri. Jonathan, fa buon viaggio. Come fa buon viaggio? Ti aspetto. Permettetemi di presentarvi il mio stimato professore, il dottore Enrico Valenzi. Io penso che sia assurdo andare in Romania una settimana prima del nostro matrimonio. E questo è il problema? Il signor Zepes c'è il problema. Conte Vladislav Zepes si chiamava così 500 anni fa. Il bacio di Dracula. Mercoledì e venerdì, ore 20 e 55. Rai 1. È nata una nuova viennetta. Con un soffice cuore di goloso brownie al cacao. Nuova e irresistibile viennetta brownie. Da Alcida. Motore 6 cilindri a fu turbo diesel da 155 cavalli. Cambio Tiptronic. Nuova Skoda Superb. Viziatevi moltissimo. Venite a provarla dai concessionari Skoda. Limon c'è, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Un piacere autentico da assaporare un tuffo dietro l'altro. Maci in emulino bianco, mangia sano e vivi meglio. Ho un segreto. Ho trovato la crema miracola. È la mia colorazione. Nuova Excellence Creme de L'Oreal. La crema colorante extra protettiva per un colore più ricco e luminoso. Copre perfettamente i capelli bianchi. Nuova Excellence Creme de L'Oreal. Per me la miglior colorazione. Perché voi valete. Colesterolo? Io il colesterolo lo contrasto naturalmente con un corretto stile di vita e con l'aiuto di Bluefish. Testato, efficace, sicuro. Bluefish, l'amico del cuore. Da Röderi in farmacia. Coco Nuda, veste il tuo tempo. Come ti chiami? Booby. Booby, Booby. Eh sì, per essere credibili il nome è importante. Per questo taglio fresco Citerio non è solo fresco come appena tagliato, ma è Citerio. Citerio, il nome fa la differenza. Booby. Quest'estate concedetevi ogni sfizio. Al resto, pensa a Renault. Renault Clio. Con finanziamento fino a 60 mesi, anticipo zero, prima rata 30 ottobre, polizza furto incendio per un anno. Quando sei stanco, ogni cosa diventa un'impresa. Oggi c'è Multi-Up, vitamine, minerali e il meglio del ginseng, in un equilibrio che fa bene all'organismo. Multi-Up, taglia con la fatica. E tu? Con una tuta così scolorita vuoi fare la ladra? I capi neri, lavali con il nuovo Lip V-Lite Noir. Previene lo scolorimento dei capi scuri e neri. Noi specialisti del nero lo usiamo. Lip V-Lite Noir. Rai Cinema, al 55esimo Festival di Cannes. Anche quest'anno, la qualità è un'emozione da condividere. L'ora di religione, di Marco Bellocchio. Interpretato da Sergio Castellitto. Unico film italiano in concorso. Kedma, di Amos Gitae. L'angelo della spalla destra, di Jamshidius Mono. Rai Cinema a Cannes. Con l'impegno di sempre. Sempre nuove emozioni. Non mi avrete nemmeno stavolta. Ma no, veniamo in pace questa volta. Dottor Sorcinelli, dopo tutte queste settimane di trappoli, inganni, insomma, dobbiamo chiudere in bellezza. Nulla vi convincerebbe che siete sinceri. E neanche questo cabaret di cannoli alla ricotta? Eh? Siciliani? Beh, ma infine conti, ma perché tenere il bronzo, siamo amici, è l'ultima puntata, no? Ma ha visto quanto ci vuole poco per rendere tutto più semplice? Basta un cannolo e lo stesso. Vola via. Che sia merito del sistema logico Daikin? È logico? Ma questo è un oasi. È un atollo tropecale. È un ruscello di montagna. Un bel gizzo. È una combinazione ideale di temperatura e umidità. Oh, finalmente Daikin ha conquistato anche voi. Ma è logico. Con oltre 75 anni di esperienza. E poi, il sistema logico Daikin, grazie alla tecnologia Inverter, stabilizza automaticamente la temperatura sui valori desiderati, evitando di accendere e spegnere continuamente l'apparecchio. E così riduce i consumi fino al 30%. E inoltre, grazie al sensore di movimento, quando il locale rimane vuoto per più di 20 minuti, diminuisce la sua potenza di funzionamento, risparmiando così ancora altra energia. E per avere un sopralluogo gratuito ad opera di un installatore specializzato, basta chiamare il numero verde 877 0066. E per ogni altra informazione c'è il sito www.daikin.it. Ho un dubbio. Non è che tutta sta gentilezza era per stare qui a vedere Fiorello al fresco del mio climatizzatore Daikin? No, veramente noi vorremmo vedere anche i nuovi filmati Daikin. Certo. Quello con... Con l'osso, per esempio. Quale osso? Quale osso? Che osso? Con l'orso, che osso. Ce l'ho, logico che ci sia. Aiuto, che caldo! Non ce la faccio più! La prossima volta metto logico Daikin. Risparmia sui consumi ed è più confortevole. Ma sto toccando il fondo! La prossima volta metto logico Daikin. Campari Soda, benvenuti al paradiso. Eliminati, ma dobbiamo fare l'audizione per la team. Eliminati. Questo gli ho dato pure un passaggio col motorino, guardalo, guardalo che faccio. E allora io chiamo Mario. E non la chiamo perché ho finito i soldi. Scusa, tu hai team? Sì. Fai pagare lei, no? Da oggi con team pay for me, digiti il 4888 e la chiamate a carico del destinatario, solo da team. Ciao, ciao, ciao Mario. Cornetto Free Music Festival, è l'evento musicale dell'estate, con 50 concerti da giugno a settembre. Cornetto Free Music Festival, for fanatic zombie. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. Thank you. Vuoi il meglio della vita senza pagarne il prezzo? Con telepiù digitale è possibile. Per tutta l'estate ti godi gratis il meglio del cinema e i grandi appuntamenti dello sport. Abbonati subito, paghi a settembre. Con le lenti a contatto giornaliere Focus Dailys puoi scegliere liberamente ogni mattino se usare i tuoi occhiali o no. Così come scegli cosa indossare. Scegli Focus Dailys, le lenti a contatto giornaliere, per una vista molto chiara. Così confortevole. Le metti facilmente al mattino e ti senti bene per tutto il giorno. E la notte semplicemente le butti via senza pulizia né manutenzione. Scegli la libertà di Focus Dailys. Oggi la purezza ha un nuovo gusto, unico. Quello di Levissima Allegra. Le vie e delicate bollicine danno più gusto alla purezza di Levissima. Nuova Levissima Allegra. Allegra di gusto, pura di natura. Motore 6 cilindri a VU. Cambio Tiptronic. Nuova Skoda Superb. Viziatevi moltissimo. Venite a provarla dai concessionari Skoda. Cosa trovo di più seducente in me? I capelli. Ma la fianza è passata di qua. Nuovo shampoo Elvive Regenium de L'Oreal. Contro i capelli che si assottigliano nel tempo. Il Regenium ridensifica la capigliatura. I miei capelli sono come rigenerati, più densi, più spessi. Sedotta? No, non sedotta, condinta. Nuovo shampoo Elvive Regenium de L'Oreal. E anche per voi, perché voi valete. Bella, ma hai fatto tutto da sola? No, no, è stata la bacchetta magica. E perché ti sei fermato? Diamo un passaggio al villico. E dove lo mettiamo? Ma è qui, in mezzo a noi, venga un uomo, venga. Vediamo un passaggio. Vedi, va a vendere. Ma sta macchina corre? Corre, corre, è fortissima. Corre, corre. E queste uova sono fresche? Sì, sì. E tu stai comodo, Walter? No, no. Vabbè, vuole un po' di musica? Sì, sì. Le piace Mina? Eh, sì, sì. Vai. Meno male che ci abbiamo Mina. Andiamo, va. Versilia, ti amo. Ma ce lo portiamo fino a Versilia? Sì, sì. Sono su Rai 1, i mondiali di calcio 2002. Rai 1, i mondiali di calcio 2002. Ogni giorno, appuntamenti da non perdere, per tifare azzurri, per seguire tutte le partite, per conoscere i retroscena, per sapere tutto, ma proprio tutto, sull'avvenimento sportivo dell'anno. Dentro e fuori dal campo, vi aspetto su Rai 1. Mondiale dribbling, mondiale sera, notti mondiali. Dal 30 maggio, su Rai 1.